Si viaggia a coppie nelle zone alte del campionato di Serie D. Il primato, dopo sette giornate, se lo dividono Fidelisandri e Potenza. La posizione di rincalzo è al 50% tra Biceglie e Gallipoli, ma i Salentini aspettano di ottenere i tre punti a tavolino per la gara contro il Sansevero. Sul terzo gradino del podio, al momento, devono coabitare Cavese e Taranto e gli Ionici, alla pari del Biceglie, sono ancora imbattuti. Insomma, l'equilibrio regna sovrano nel girone H, visto che il primo timido tentativo di fuga del Gallipoli è stato rintuzzato dalle due sconfitte consecutive, quelle sul campo contro Sansevero e Grottaglie, e non c'è ancora un padrone assoluto di questa stagione. Ruolo che in tanti vorrebbero caricare sulle spalle della Fidelisandria, tornata a vincere anche in trasferta, rischiando qualcosa contro la Sarnese, ma dimostrando quel cinismo tipico delle grandi squadre. Gli azzurri, che si preparano alla sfida diretta contro il Gallipoli di domenica prossima, fischio d'inizio alle 15.30, si godono il primato alla pari di un potenza che, dopo una partenza stentata, un punto in due gare, ha infilato cinque successi consecutivi. Due neopromosse in vetta alla classifica, con il Gallipoli appena dietro, sono anche la testimonianza dell'entusiasmo che accompagna chi è arrivato direttamente dal campionato d'eccellenza. Non solo entusiasmo, ma una programmazione più accorta e alla base della buone cosa mostrate dal Biceglie, fin troppo zotti dipendente. Un suo tocco al volo è servito per piegare la resistenza del Sansevero, anche se De Luca non se ne preoccupa più di tanto, sicuro che arriveranno anche i gol di Patierno, Gallaccio e Lacarra. L'imbattibilità del Biceglie fa il paio con quella del Taranto, caparvio nel rimontare il doppio svantaggio nel derby di Monopoli, ma fin troppo abbonato ai pareggi, cinque in sette giornate. Il primo pareggio prezioso in trasferta lo ottiene il Manfredonia sul campo del Pomigliano, anche se è il Grottaglie tra le squadre di seconda fascia a compiere il colpo della domenica battendo il Gallipoli. Senza convincere torna a successo il Brindisi. Il 3-1 sulla Puteolana non cancella tutte le fibrillazioni societarie, anche se non avvicina i messapici alle zone nobili della classifica.